Grazie a tutti 5 air squat Andiamo a vedere il WOD La prima parte dell'allenamento di oggi Sono 10 round con 10 secondi di tutto lavoro agli anelli 10 secondi di tenuta in el sit Muovendo le gambe 10 secondi di rest Mantenendoci però attaccati agli anelli Con una buona attivazione del core E 10 secondi di tenuta el sit 20 secondi di rest E via di nuovo per 10 round Ok siamo al workout Il workout sono 5 Ok siamo al workout Il workout sono 5 minuti arm wrap Per 3 set Con 5 minuti rest Ogni fine arm wrap 1000 metri di row Per l'uomo 800 per la donna E nel tempo che rimane Macho Man Cos'è Macho Man? 3 power clean 3 front squat 3 jerk I carichi sono a salire per ogni round Li vedete in grafica E mi raccomando Date tutto Il WOD è veramente duro Con un carico da 80 a 100 kg per l'uomo Siamo all'ultimo giorno della settimana CrossFit Pescara Venite a trovarci quando siete qui in Abruzzo Vi aspettiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti